Ormai sono 30 anni che facciamo trapianti di cuore qui al Monaldi e ogni volta vedere ripartire il cuore dopo l'intervento è sempre una grande emozione. Bisogna pensare alla famiglia del donatore è una cosa fondamentale ma soprattutto bisogna pensare che questo dono riporta alla vita una persona, una famiglia.